Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre con la notizia che ha letteralmente e giustamente fatto il giro del mondo. L'arresto del boss Matteo Messina Denaro era latitante da 30 anni, da quel 1993 quando venne arrestato il capo dei capi come venne definito Totò Riina. E allora oggi era in città l'onorevole Maria Elena Boschi per un incontro sulla Costituzione con gli studenti e appunto ha parlato anche di questa importantissima notizia. Un giorno particolarmente importante perché segna la vittoria dello Stato con l'arresto di Matteo Messina Denaro, quindi sono particolarmente contenta di poter condividere questa giornata, una notizia così importante con gli studenti. Lo ha detto l'onorevole Maria Elena Boschi di Azione Italia Viva oggi ad Arezzo per un incontro organizzato dall'Associazione Intratevere e Tarno con gli studenti del liceo coreutico Piero della Francesca a cui ha spiegato la Costituzione. È la pietra miliare su cui poggia la nostra nazione, il nostro Stato e il compito importante che hanno i ragazzi e le ragazze non è solo quello di conoscere la Costituzione con il lavoro che fanno a scuola prezioso ma farla vivere. In un giorno però così importante per il nostro Paese in cui è stato assicurato alla giustizia uno dei latitanti più pericolosi e più ricercati al mondo, Matteo Messina Denaro, la Boschi si è espressa anche su questo tema. È il frutto del lavoro delle forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni del nostro Paese di 30 anni e quindi è un risultato di cui devono essere orgogliosi anche questi ragazzi e queste ragazze come lo siamo tutti noi. E poi è un'occasione preziosa per parlare con loro della Costituzione, dei principi fondamentali, di quello che ci tiene insieme come italiani e italiane, è un po' la carta d'identità del nostro Paese. Di grande successo poi l'incontro con gli studenti del Liceo Coreutico Piero della Francesca a cui la deputata ha spiegato la carta che compie 75 anni. Non è più una Costituzione giovane e ne siamo orgogliosi perché di storia e di strada il nostro Paese ne ha fatto, la nostra Repubblica, ma dei principi che sono ancora attuali, che possono essere declinati a 75 anni di distanza. Io sono anche molto orgogliosa perché la nostra Costituzione è il primo risultato importante anche di una partecipazione attiva delle donne in politica, non solo perché per la prima volta le donne nel 1946 votarono per il referendum e l'Assemblea Costituente, ma perché furono per la prima volta elette all'Assemblea Costituente e parteciparono, dando un contributo importante, penso a Nilde Iotti, a Teresa Noce, a Teresa Mattei, all'importanza dell'articolo 3 della nostra Costituzione che richiede un'uguaglianza sostanziale e non solo formale di tutti i cittadini, anche senza distinzioni di sesso, senza le donne in Assemblea Costituente, quella pagina probabilmente non sarebbe stata scritta. L'educazione civica all'attuale ordinamento prevede che vengano fatte 33 ore, mi sembra, in tutte le scuole superiori d'Italia, però che queste 33 ore non prevedono un insegnante come è per la matematica, la letteratura italiana, eccetera, ma vengano suddivise tra tutti gli insegnanti, il che insomma non è proprio facilissimo. Allora abbiamo chiesto e ottenuto, grazie alla cortesia e alla lungimiranza del provveditore di Arezzo, di poter contribuire con queste persone, definiamo le esperte della materia, a riempire le ore di educazione civica di ogni scuola. Torniamo adesso invece sul caso dell'omicidio di San Polo, questa mattina la perizia balistica. Sono iniziate questa mattina le operazioni per i tali di quella che potrebbe essere la chiave di volta dell'inchiesta gli accertamenti balistici sul fucile da caccia di Sandro Mugnai. Il Fabbro, 53enne, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio aveva ucciso con il fucile da caccia il vicino di casa Gesim Dodoli, 59 anni, che aveva dato assalto alla sua abitazione con una ruspa nelle colline di San Polo. Al lavoro da questa mattina i uomini del RIS di Roma e del SIS di Firenze, incaricati dalla procura di Arezzo, che dovranno eseguire la perizia balistica sul fucile regolarmente detenuto, per verificare la traiettoria dei colpi sparati e comparare gli elementi raccolti con la versione di Mugnai. La sua verità era stata già cristallizzata nel corso dell'interrogatorio di garanzia di fronte al GIP Giulia Soldini. Il giudice non aveva ravvisato le condizioni della custodia cautelare in carcere e lo aveva rimesso in libertà. Mugnai, secondo il GIP, avrebbe agito per difendere se stesso e le sei persone che erano in casa con lui e che non potendo fuggire all'esterno sarebbero potute morire nel crollo del tetto e dell'edificio lesionato dalla benna dell'escavatore. Cinque i colpi esplosi dal fabbro, prima una terra, poi quattro in direzione dell'abitacolo della ruspa, tre hanno raggiunto Gesim Dodoli all'addome ed uno alla spalla, come confermato anche dall'autopsia. Adesso la perizia balistica potrà confermare o meno quanto affermato da Mugnai agli inquirenti. Si stanno cercando anche i frammenti dei bossoli esplosi con il metal detector. I risultati, assieme a quelli dell'esame autoptico, andranno così a comporre il quadro accusatorio della PM Laura Taddei, che dovrà decidere se chiedere l'archiviazione per legittima difesa o avanzare una richiesta di rinvio a giudizio. E adesso torniamo a parlare degli scontri tra i tifosi del Napoli e della Roma lungo l'autosole. La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo. Tra i reati di cui dovranno rispondere c'è anche l'attentato alla sicurezza dei trasporti. Sarebbero nove gli indagati dalla Procura di Arezzo per gli scontri tra i tifosi avvenuti lo scorso 8 gennaio lungo l'autostrada del Sole nei pressi dell'area di servizio di Badia Alpino in Corsia Nord. La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per i reati di rissa aggravata, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti rischiano fino a cinque anni di reclusione. Tra i nove tifosi, tre sono sostenitori della Roma e sei del Napoli già sottoposti al DASPO, il divieto dunque di assistere a manifestazioni sportive. I nove sono stati identificati nel corso delle indagini coordinate dal PM Laura Taddei grazie ad una comparazione tra i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio e i video circolati sui social in quelle ore realizzati dai cittadini incrociati poi con immagini registrate allo stadio. Il riconoscimento è stato ostacolato in alcuni casi dal fatto che molti dei tifosi erano a volto travisato. Le indagini proseguono e il numero degli indagati potrebbe aumentare. Un camion che trasportava bitume si è rivaltato. Il traffico è andato letteralmente in tilt. È successo in tarda mattinata nel comune di Civitella in Valdichiana. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti anche con l'autogru e hanno provveduto a riportare l'assetto del veicolo sulla sede stradale per poi la successiva rimozione. Non ci sono stati feriti. Sono due le truffe via internet scoperte dai carabinieri. In un caso una donna di 48 anni aveva versato 160 euro sulla poste pay di un 33enne per aver acquistato degli abiti che poi non sono mai arrivati. L'uomo è stato denunciato. Un altro avvenimento appunto accaduto sempre all'interno del web e dei social. È stato rubato un profilo e l'uomo ha anche tentato di truffare una cartoleria. Si spacciava per un cliente e così è stato smascherato. Il nuovo caso della cosiddetta truffa della ricarica. Alla fine in chat il truffatore avrebbe ammesso lo faccio spesso non mi troveranno. E allora scatta insomma l'appello anche ai titolari appunto di stare attenti se dovesse accadere un caso simile. Codice giallo per pioggia, vento, mareggiate fino a tutta la giornata di martedì 17 gennaio. Una perturbazione nord atlantica transiterà in Toscana con venti forti occidentali e mare molto mosso. Sono previste appunto piogge temporali che interesseranno gradualmente tutta la nostra regione. Siamo alla politica. Lavorerò su molti progetti e cantieri in piena continuità e sull'ipotesi di riforma al vaglio del Parlamento. Ovvero la possibile rielezione del Presidente della provincia e anche dei consiglieri in maniera diretta da parte dei cittadini. Ci sono ben sei disegni di legge, dice Polcri, una novità da salutare positivamente. Mi adopererò insomma affinché sia possibile traghettare la provincia verso appunto il nuovo ente. C'è poi, ha detto, il grande tema dei fondi legati al PNRR, lavori da cantiere o progetti da avviare, legati proprio al governo del Presidente uscente, ha detto Polcri, che ritengo debbano trovare la giusta continuità. Adesso parliamo dell'altra notizia del giorno. La scomparsa di Gina Lollobrigida all'età di 95 anni. aveva incrociato il percorso di Arezzo in tre occasioni ad Icastica e poi era stata madrina anche del raro festival ed era passata anche tra le fila degli spettatori del concorso polifonico. Noi la ricordiamo appunto con questo servizio del 2019. Quanto è bella questa città? È veramente bella. Io pensavo di non essere stata qua, ma quando ho visto la piazza l'ho subito riconosciuto. Sì, bravo. Sì, io spero di portare fortuna. Grazie. Era il 2019 quando Gina Lollobrigida vestiva i panni della madrina del raro festival, la star del grande schermo, si è spenta a 95 anni, simbolo della cinematografia italiana, ha vinto 7 Davide di Donatello, un Golden Globe, due nastri d'argento e una stella. Sulla celebre passeggiata delle stelle di Olivo, diretta dai più grandi registi italiani, aveva lavorato accanto ai più grandi divi dello star system. Lascia un figlio, Andrea, avuto nel 1957 una vita personale molto più travagliata rispetto a quella pubblica. Aveva raccontato anche di una violenza sessuale quando aveva 18 anni. Una diva italiana che da sex symbol si è saputa trasformare in una star internazionale. Parliamo adesso invece di Nicola Lepraie e Martina Restuccia che hanno trionfato ai campionati italiani di danze latino-americane. La coppia, residente a Vicio Maggio, ha incassato i complimenti anche dell'amministrazione comunale. Nicola e Martina si sono laureati campioni italiani per le danze latino-americane, professionisti ai campionati assoluti di danza che si sono svolti lo scorso 14 gennaio a Riccione. Dunque davvero complimenti a questi due ballerini. Parliamo adesso invece di Carnevale perché Foiano della Chiana tornerà ad essere la capitale dei Coriandoli celebrando la 484esima edizione del Carnevale più antico d'Italia. Le sfilate ci saranno dal 5 febbraio al 5 marzo con i giganti di cartapesta. Torniamo a fare festa nel periodo del Carnevale dopo lo stop del Covid. Ha detto il presidente del Comitato Carnevale Massimo Di Chiara. Lo faremo riappropriandoci non solo della stagione più consona a questi festeggiamenti ma tornando al Carnevale che appunto tutti conoscono e che tutti vogliono con tantissimi appuntamenti collaterali già dal sabato di ogni fine settimana e poi ovviamente appunto con le sfilate dei bellissimi carri. Siamo alla pagina dello sport e partiamo con l'Arezzo che ha vinto a Follonica contro il Gavorrano. Una bella vittoria, una gara intensa, una squadra che ha concesso poco al Follonica Gavorrano. È finita 3-1 per gli uomini di Mister Indiani. Mattia Gaddini è stato uno dei grandi protagonisti del match con una splendida doppietta. Sua la rasoiata che ha aperto la strada alla vittoria. Il protagonista del grande match è stata la squadra. Abbiamo fatto una grande gara, penso che l'abbiamo interpretata giusta, nel modo giusto dall'inizio. L'obiettivo di oggi era venire qua, fare bene, vincere. L'abbiamo fatto e adesso pensiamo alle prossime gare. È stata una giornata speciale anche perché l'Arezzo con questa vittoria, approfittando anche del passo falso della Pianese, riconquista la testa della classifica. Sì, hai detto bene. Oggi noi avevamo una gara difficile. Venire a vincere qua sarebbe stato un bel colpo, lo sapevamo. Loro hanno fatto un passo falso. Sappiamo che il campionato è lungo, quindi noi ci crediamo sempre. Come ci abbiamo creduto dall'inizio, quando abbiamo avuto dei periodi no, ci crediamo ogni volta, anche quando vinciamo. Allo stesso modo. Quindi niente. È stata una grande vittoria. In più con loro che hanno fatto un passo falso è stato doppio, quindi sei punti. Un Paolo Indiani che in panchina per tutta la gara sembrava un tarantolato, anche dopo il 3-1. La fine match è raggiante per la vittoria e per la testa della classifica riconquistata. Ma è importante noi che abbiamo fatto, abbiamo dato una grossa dimostrazione oggi, una grossa dimostrazione di forza contro una squadra forte come noi e tra l'altro era un battuta qui nel campo suo. Credo veramente, ecco, la squadra ha dimostrato veramente oggi di esserci. Non ha mollato mai un secondo questa squadra. La grinta in ogni parte del campo, anche sul 3-1, continuava a cercare il quarto gol. No, anche quando hanno pareggiato loro non ci stava. Il pare avevamo già sbagliato due, tre gol. Cioè il solito discorso è che oggi è un altro rigore sbagliato. Dava chiusa prima, però se doveva finire così va bene così. In 20 minuti iniziali il minimo ci dovrebbe essere il doppio vantaggio. Se non c'è il doppio vantaggio, è chiaro, poi c'è un traversone, mezz'errore Lorenzo, però l'altro poi è stato bravo in seguito. Ti ritrovi uno a uno, poi c'è il rigore, lo sbagli. Però nell'intervallo, ragazzi, abbiamo detto, si vince lo stesso per, anche al di là del rigore, per dimostrare veramente che oggi ci siamo, perché il primo tempo non poteva finire uno a uno. Fortunatamente il secondo tempo è venuto come ci auguravamo nell'intervallo. Non è andata bene invece per le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile che sono cadute sotto i colpi del Napoli. L'Arezzo Calcio Femminile cade sotto i colpi del Napoli Femminile nella prima partita del 2023. Al cospetto della seconda in classifica, le Amaranto hanno infatti disputato un buon primo tempo, ma hanno poi subito nella ripresa, quando le campane hanno preso il sopravvento, decretando lo 0-2 finale. Al cinquantesimo, l'improvviso vantaggio ospite con De Lestal, ha messo la partita in discesa per il Napoli, che poi ha raddoppiato al settantasettesimo con Gomez. L'Arezzo Calcio Femminile tornerà in campo domenica prossima per la delicata trasferta sul campo della diretta concorrente Ravenna. Abbiamo preso un gol su una disattenzione, prenderlo all'inizio del secondo tempo, dopo comunque aver fatto un buonissimo primo tempo, un po' ci ha, secondo me, destabilizzato. Purtroppo, come ho già detto, non possiamo soffermarci su questo, dobbiamo raccogliere il buon primo tempo che abbiamo fatto e poi si vedrà. Non abbiamo notato differenze nel primo tempo, non c'era differenza di classifica. Sì, le partite si possono parlare sempre in tanti modi, in maniere diverse. Poi, purtroppo, gli episodi condizionano le partite. Siamo stati, non voglio dire sfortunati, perché poi alla sfortuna non ci credo. Credo che poi la fortuna uno se la crea. Però, d'altronde, la situazione è data in quella maniera. Abbiamo subito gol e poi diventa anche difficile reagire in certi momenti della gara. È vero che era passato poco, però dopo cinque minuti e dopo aver fatto un primo tempo quello che avevamo fatto, ci sta di subire un contraccolpo psicologico. Però alle ragazze credo che oggi ci sia poco da dire. Possiamo continuare a lavorare, cercare di correggere gli errori, però bisogna essere anche positivi e non cercare degli alibi o dire che abbiamo fatto male quando invece la squadra ha fatto sul campo una buona partita. Purtroppo abbiamo perso, dobbiamo renderci conto di questo, accettare la sconfitta, continuare a lavorare, cercare di trovare sempre le cose positive e lavorare su quelle che non funzionano con grande serenità e con quel sorriso che poi ti riesce a far vedere le cose in maniera diversa. Sconfitta anche per quello che riguarda il basket. La spezia si è dimostrata più forte dell'Amens con la basket Arezzo che dunque ha perso per 73 a 91. Non è bastata una buona prova comunque degli Amaranto per sbancare l'inviolato palasprint. Vediamo. Si chiude con una sconfitta il girone di andata dell'Amens con la basket Arezzo. Gli Amaranto non sono infatti riusciti nell'impresa in trasferta alla spezia, campo ancora oggi inviolato. Inizio di partita scoppiettante con le squadre che prendono rapidamente confidenza con il canestro. La sbacco di punti di Vaselovinovic prende anche 5 lunghezze di vantaggio prima che un parziale di 8 a 0 riporti svantaggio allo spezia che alla prima sirena si trova avanti di un punto 26 a 25. Il secondo quarto prosegue in equilibrio ma è un altro parziale 8 a 0 fa l'allungare i padroni di casa. La squadra all'intervallo lungo dunque si è presa a 7 punti di vantaggio 51 a 44. Al rientro in campo dagli spogliatoi l'Amen aumenta l'intensità difensiva così punto dopo punto gli Amaranto si rifanno sotto e operano il sorpasso 56 a 55. L'ultimo minuto e mezzo del terzo parziale però da dimenticare per la sbacca e scivola nuovamente a meno 9. Negli ultimi due giri di lancette lo spezia trova poi un vantaggio che alla fine sarà troppo punitivo per gli Amaranto che vengono superati 91 a 73 a pesare in negativo anche qualche errore ai liberi. Terminata l'andata con una trasferta l'Amen sarà di nuovo lontana dal Palasport Estra per la prima giornata di ritorno sabato alle 21.15 quando sarà impegnata sul campo della Legnaia Firenze in rampa di lancio dopo 6 vittorie consecutive in campionato. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lascio dunque con i nostri programmi grazie per l'attenzione e arrivederci.